Possono entrare solo i soci. Io sono socio. Aveva una vita normale. Se vuoi che infranga tutte le mie regole e accetti di prestarti dei soldi, dovrei fare qualcosa in cambio per me. Fino a quando non lo hanno incastrato. Dovrai seguirla fino a casa, strapparle via la busta, anche alle mani e a quel punto riporterai la busta qui. Adesso vuole vendetta. C'è della gente in questa pagine che mi vuole morto. Avengement. Missione vendetta. Giovedì alle 21.20. Rai 4.